Ciao ragazzi, rieccoci Allora, è stata una grande serata in Europa League per le italiane Questo è il commento di Lechia-Napoli È stata una bella partita È stata una bella partita del Napoli Mi avviso il 2-0 per il Napoli è anche abbastanza stretto Perché secondo me il Napoli meritava di più E diciamo che il Napoli è andato in vantaggio Da un bel cross di Amsic Da un bel cross di Amsic Ha fatto un gol di testa a Mertens Ma il Napoli ha creato veramente tantissime occasioni Con Gabbiadini Sempre con Mertens, con Allan Con Caglion Ha creato veramente tantissime occasioni E quindi secondo me meritava molto di più E poi il portiere ha fatto anche una grandissima parata Su un tiro di vieto di Gabbiadini Quindi ha fatto veramente una grande partita Devo elogiare e faccio un applauso a Higuain Perché ha fatto veramente un gol fantastico Ha fintato 3-4 volte il tiro Poi l'ha fatto partire Ha fatto veramente un gol fantastico E... Sì, ha fatto veramente un bel gol C'è stato un pericolo per il Napoli L'unico pericolo della partita Cioè per il Napoli dove A mio avviso Era un'azione casuale C'è stato un cross dalla sinistra C'è stato il colpo di testa di Maggio E la palla è andata a sbattere sulla traversa Qui il Napoli è stato un banco abbastanza fortunato Perché poteva succedere una cosa incredibile Che il Lecchia facesse un gol con un autogol Quindi è stata una cosa abbastanza strana Perché il Napoli non ha subito praticamente nulla questa sera Ha giocato una grande partita E ha meritato di vincere Come ho detto, secondo me il passivo Per il Lecchia è anche leggero Perché secondo me il Napoli stasera meritava di vincere 3-4-0 Bene ragazzi Io penso che questo sia tutto Perché è stata una partita letteralmente dominata Quindi c'è poco da dire Complimenti al Napoli Che si sta dimostrando di essere una buona squadra Non ancora una grande squadra Però si avvicina Alla vetta più grande Alla grande squadra Ci sta provando È una squadra molto discreta Quando vuole, soprattutto con le grandi Dimostra di essere molto forte Con le piccole invece ancora fa un po' fatica Però avrà tempo per migliorare questo D'altronde se in una squadra non ci sono difetti Non puoi trovare neanche i pregi Perché se fossero solo pregi sarebbe troppo bello Bene ragazzi Questo è tutto E ci rivediamo tra poco con il commento di Lazio Sant'Etienne Ciao ragazzi Sempre forse aiuto